Le vacanze estive sono finite, tra pochi giorni suonerà la campanella tanto per gli studenti più giovani che per quelli un po' più grandi in tutta Italia. Ecco il decalogo preparato dalla Società Italiana di Pediatria per un ottimo ritorno a scuola. Buongiorno, bentrovati, questa è la nostra notizia di apertura per oggi, possiamo guardarci in servizio. Per tornare tra i banchi senza troppa nostalgia di mare, montagna di tutto ciò che si è visitato in questi mesi e per iniziare un nuovo anno scolastico nel migliore dei modi e con tanta energia, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale ha stirato un decalogo in aiuto degli alunni e dei loro genitori. I pediatri della SIPs ritengono fondamentali seguire alcune regole per consentire agli studenti di avere un rientro a scuola piacevole e soprattutto graduale. Impostare l'orario di sveglia adeguato alla ripresa dell'attività scolastica e preparare i vestiti la sera prima per risparmiare molto tempo al mattino, dormire un po' di più e fare una ricca colazione in vista della giornata di studio. Andare a letto prima la sera, specialmente durante gli ultimi giorni di riposo, è necessario andare a letto prima per avere ore di sono sufficienti a far riposare l'organismo, evitando l'uso di tablet, videogiochi o tv. Alimentazione, 5 pasti al giorno, colazione, spuntino di metà mattino, pranzo, merenda e cena, applicando i principi della dieta mediterranea con cibi provenienti da coltivazione biologica. Tornano i compiti, i genitori devono aiutare i loro figli nello svolgimento dei compiti, ma non devono farli al posto loro. Il modo migliore per essere accanto ai propri figli in questa attività è stabilire un orario di studio fin dalla prima settimana. Stile di vita sano, i genitori devono accompagnare i propri figli a scuola facendo insieme una passeggiata. Camminare e parlare durante il tragitto verso la scuola è sicuramente una scelta migliore rispetto a quella di arrivare in macchina fin sotto i gradini dell'istituto. Niente ansie, i genitori non devono criticare la scuola o gli insegnanti e non devono lamentarsi delle molteplici spese da affrontare per i libri e materiale didattico. Acquistare il materiale scolastico in tempo. Nel farlo è necessario coinvolgere i bambini nella scelta di quaderni, libri, zaini, penne e astucci. I bambini devono familiarizzare con l'ambiente per quanti vanno a scuola per la prima volta e di grande aiuto che padri e madri li accompagnino nella nuova scuola qualche giorno prima che inizino le lezioni in modo che possano identificare la loro classe e la sezione. Per i più piccoli è altrettanto rassicurante vedere i propri genitori interagire in maniera positiva con gli insegnanti. Per gli studenti più grandi invece è importante riprendere i contatti con i compagni di classe per ricollegarsi in modo piacevole alla prossima routine delle lezioni. Pensare all'iscrizione a corsi di sport di giochi strutturati per l'anno a venire in base alle attitudini del bambino. Praticare sport genera un rilascio di endorfine che aiutano a migliorare l'umore e la concentrazione, elementi fondamentali per essere in forma una volta tornati dalle vacanze. Il Decalogo, spiega il responsabile della comunicazione e dell'educazione della salute della Sips, Michele Fiore, nasce con l'obiettivo di aiutare i nostri studenti e le nostre studentesse a tornare tra i banchi, riaprire libri di testo e ricominciare a studiare con gioia e senza stress e agitazione. A tal proposito è più che mai opportuno non utilizzare videogiochi, tablet, computer o televisione durante le ore serali e soprattutto prima di andare a dormire. E adesso due minuti di pausa, torniamo con tutti i titoli e tutti i servizi. 12.000 giovani in meno in 10 anni. Continua l'emorragia demografica nelle Trapanese. A lanciare all'arma il segretario della Will di Trapani, Tommaso Macaddino. Incendio a Monte Sparaggio. Un vasto incendio di Bampato ieri sera sul lato di Baglio Messina della montagna che ha bruciato per tutta la notte. Al via oggi il premio Saturno. Tutto pronto a Piazza Vittoria Emanuele a Trapani per il bentennale della Sicilia che produce la riqualificazione del Castello di Venere. Continuano elice i lavori per il recupero dell'importante monumento nell'ambito di un progetto di musealizzazione. Non vediamo l'ora di iniziare questo il titolo di sport. Così il capitano del Trapani Calcio Sergio Sabatino dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il Sant'Agata. E quindi per l'approfondimento fare sistema per la settimana santa. L'Unione Maestranza della processione dei misteri di Trapani ha tenuto ieri sera una riunione in vista dell'arrivo in città di una delegazione di Europassione. Ancora buongiorno e bentrovati. Sono oltre 12.000 i giovani in meno nel Trapanese negli ultimi dieci anni. A lanciare l'allarme il segretario generale della Will di Trapani, Tommaso Magaddino. Vediamo. Diminuiscono i giovani a Trapani. Se nel 2013 erano quasi 103.000, nel 2023 si contano poco più di 90.000 ragazzi con un'età compresa tra 15 e 34 anni. Una variazione del meno 12,3% che chiaramente spaventa. Si tratta di un dato allarmante, ha commentato il segretario generale della Will di Trapani, Tommaso Magaddino, che deve far riflettere i nostri rappresentanti istituzionali e politici su quali siano le misure urgenti da adottare nell'immediato per arginare l'emorragia di giovani dalla provincia trapanese. Il nostro sta diventando un territorio sempre più vecchio e impoverito rispetto a quelle che dovrebbero essere le nuove energie vitali di questa provincia. Questi numeri siano invece punto di partenza affinché si possano mettere in atto politiche mirate a favore della popolazione giovanile. Il punto di partenza dovrebbe essere, a nostro avviso, continua Magaddino, un'offerta accademica ancora più ricca. È vero che negli ultimi anni è cresciuto il numero di corsi disponibili presso il polo didattico trapanese, ma questo non significa che non ci sia un bel margine di miglioramento. Bisogna pensare a percorsi universitari che possano agevolmente collegarsi con i principali settori economici del territorio, in modo da innescare un circolo virtuoso tra università e lavoro. Il futuro di questa provincia è legato a quello dei propri giovani ed è necessario dare loro gli strumenti necessari affinché possano realizzare le loro aspettative e progetti di vita e di lavoro. E in tal senso, conclude Magaddino, un ingranaggio indispensabile del meccanismo deve essere costituito da quelle imprese del territorio che operano in maniera seria, creando lavoro vero, legale e sicuro, le quali devono fare la loro parte per attrarre le nuove generazioni in modo che quest'ultime possano dare valore aggiunto a questa terra, tramite le loro competenze, anziché esportarle in altri luoghi. Incendio ieri sera a Monte Sparaggio. La montagna, la cima più alta della provincia di Trapani con i suoi 1110 metri di altezza, ha bruciato per tutta la notte. Il rogo è divampato nel versante sopra Baglio Messina, con le fiamme che poi sono andate risalendo sempre più. L'allarme è scattato poco dopo le 20. Sul posto è subito arrivata la forestale. Le operazioni di spegnimento, che hanno visto impegnati anche i vigili del fuoco, sono state coordinate dalla comandante del distaccamento di Erice della forestale Gioacchino Barbera e dall'ispettore superiore Alberto Bitaggio, che stamattina ha fatto una prima stima dei danni. Sono andati a fuoco circa 30 ettari di macchia mediterranea, ma anche lecci e biancospini. Il bosco del Giacomo Laro si è salvato. I danni sono stati limitati grazie al massiccio di spiegamento di forze, di mezzi antincendio e forze a terra. Controlli da parte dei carabinieri nel centro storico di Marsala. Sei persone denunciate, undici segnalate alla prefettura. Abbiamo un servizio. Sei persone sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Marsala di concerto con i colleghi del XII Reggimento Sicilia nel corso di una serie di controlli effettuati durante il weekend appena trascorso nel centro storico cittadino. In particolare, un 39enne e un 40enne sono stati denunciati per furto aggravato dopo essere stati sorpresi ad asportare cavi di rame dall'impianto dell'illuminazione pubblica. Un trentenne, già denunciato dai militari dell'arma tre volte negli ultimi mesi per vari furti, tra i quali un mezzo per disabili e altri veicoli, è stato sorpreso in sella una bici elettrica risultata rubata. Nei confronti dell'uomo è scattata la denuncia per ricettazione. Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Tre uomini sono stati sorpresi per le vie del centro storico in violazione del divieto di accesso ad un'area urbana a cui erano sottoposti 11 persone invece trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti sono state segnalate alla prefettura di Trapani. E adesso una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Arvia oggi il premio Saturno, tutto pronto a Piazza Vittoria Emanuele a Trapani per il ventennale della Sicilia che produce la riqualificazione del Castello di Venere. Continuano a erice i lavori per il recupero dell'importante monumento nell'ambito di un progetto di musealizzazione. E quindi per lo sport non vediamo l'ora di iniziare. Così il capitano del Trapani Calcio Sergio Sabatino dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il Sant'Agata. Al via oggi il premio Saturno, è tutto pronto a Piazza Vittoria Emanuele a Trapani per il ventennale della Sicilia che produce. Vediamo. Fino a tarda sera ieri gli allestitori hanno completato il village di Piazza Vittoria Emanuele dove prenderà il via oggi alle 18 la ventesima edizione del premio Saturno. Alle 19 si partirà col primo talk sulla giornata mondiale sull'ambiente che quest'anno celebra i 50 anni dalla sua istituzione condotto dal direttore di Telesud Nicola Baldarotta. Alle 20 poi il primo cooking show di Andy Luotto. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il poliedrico chef e indimenticato protagonista di quelli della notte. Ascoltiamolo. 20esima edizione del premio Saturno la Sicilia che produce stasera qui a Piazza Vittoria Emanuele ci sarà anche Andy Luotto che ci delizierà con una serie di preparazioni. E allora che cosa c'è in programma per stasera? Io faccio una ricetta stasera e una domani qui a Piazza Vittoria Emanuele il premio Saturno. Esattamente. O Marte, Saturno. Stasera una buziata che a me piace perché a Roma neanche si trovano le buziate e con cozze e zafferano e un'altra cosa che non vi dirò mai. E domani sera una buziata, una pasta fredda con gamberi e limone. Buono. Io l'ho provato, sono buono. Venite perché la cosa è molto bella. Sempre questa sera poi aprirà l'area food con le prelibatezze targate Taverna Paradiso e Peppe Giuffre. Il noto enogastronauta ha sottolineato la tradizione siciliana che sarà alla base delle pietanze proposte durante la sei giorni. Il premio Saturno, oltre che essere io un affezionato e quasi abitue ormai diciamo, è una grande gioia essere a Piazza Vittoria Emanuele a Trapani. Questa piazza che ogni tanto viene un po' anche bistrattata direi. Però godiamocela. In questi giorni sarà un grande palcoscenico e di questo da Trapanese ne vado orgoglioso. Su quello che preparerò sarà una sorta di tentativo. Gradirei ancora rifletterci qualche altro po' perché non trecanto io che sono un tradizionalista cercherò in qualche modo di non allontanarmi da quello che possono essere la pasta con laglia pistata, o cuscus, la cassata siciliana, la pasta chesarde e cose quale. Vediamo di... farò un po' di mente locale per cercare in qualche modo, non dico di estremizzare o rivisitare, ma bensì di tirare fuori qualcosa della nostra grande tradizione. Stasera dunque il via con la presentazione ufficiale a cura di Stefania Renda e dello showman Sassalvaggio. Alle 23 infine il concerto gratuito degli Shackalab con DJ Yanez sul Maxi Palco di Piazza Vittoria Emanuele. Cambiamo argomento. Nel territorio di Paceco scatta la pulizia dei canali di scolo per prevenire allagamenti con l'arrivo delle prime piogge autunnali. Vediamo. Interventi urgenti per le pulizie e ripristino dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche sono stati avviati dal settore lavori pubblici del comune di Paceco. Questa operazione, sollecitata dal sindaco Aldo Grammatico e dall'assessore lavori pubblici Salvatore Castelli, mira a prevenire allagamenti durante le stagioni piovose, con particolare attenzione alle frazioni di nubbia e d'attilo che sono più vulnerabili. In alcuni casi, come spiegato da Salvatore Castelli, sarà necessario ripristinare la corretta pendenza dei canali per garantire un deflusso adeguato delle acque. Allo stesso tempo è stata emessa un'ordinanza sindacale che richiede ai proprietari terreni situati lungo i fossi e i corsi d'acqua di effettuare la manutenzione del sistema di drenaggio entro oggi 5 settembre. Purtroppo, ha rimarcato ancora l'assessore Castelli, alcuni proprietari hanno danneggiato i canali con deviazioni, interramenti e scarichi abusivi, ostacolando così il deflusso corretto delle acque. In caso di mancato adempimento, l'amministrazione comunale di Paceco prenderà provvedimenti sanzionatori e svolgerà le necessarie operazioni a spese dei responsabili. Un incendio è divampato poco dopo la mezzanotte alla rotonda di Villa Rosina, lungo lo scorrimento veloce. A fuoco alcune palme, a far scattare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento. Un altro ruolo in contemporanea è divampato nel popolare quartiere Fontanelle, alle spalle del supermercato Lidl. Ed ora andiamo ad Erice, dove si va verso la riqualificazione del Castello di Venere per valorizzare appunto il patrimonio archeologico. Vediamo. Erice, l'incantevole borgo medievale, sta compiendo grandi progressi nel recupero e nella valorizzazione del suo patrimonio culturale ed archeologico. L'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Daniela Toscano, in collaborazione con la soprintendenza di Trapani, ha recentemente avviato un progetto di riqualificazione e musealizzazione del sito archeologico del Castello Normanno, allocato sul resto del Tempio di Venere, dimostrando così un impegno significativo nel preservare la storia e la bellezza di questa affascinante località. Ieri una squadra di esperti ha effettuato un sopralluogo nel cantiere per valutare lo stato attuale del sito e pianificare le attività future. Questo progetto di riqualificazione mira a ridare vita al Castello di Venere, che rappresenta un importante simbolo storico per Erice e per la sua comunità. Il castello, con le sue antiche mura e i suggestivi paesaggi circostanti, offre un'opportunità unica per immezzersi nella storia e nell'architettura di un'epoca passata. L'amministrazione comunale ha pianificato l'attività di musealizzazione del sito, che consentirà di esporre reperti archeologici e raccontare la storia e le tradizioni legate al Castello di Venere. Ciò permetterà ai visitatori di comprendere meglio l'importanza culturale del luogo e di apprezzare a pieno la ricchezza del patrimonio ricino, così come evidenziato dall'assessore Rossella Cosentino, che ha rimarcato come il progetto di riqualificazione e musealizzazione del Castello Normanno non solo contribuirà a preservare e valorizzare il patrimonio storico di Erice, ma avrà anche un impatto significativo sul turismo locale. Gli appuntamenti su Tare Sud per questa sera. Vi ricordo la terza edizione del nostro telegiornale che è prevista alle 19.40 e poi in replica alle 22.40. Adesso una breve pausa, torniamo con lo sport. Per lo sport torniamo a parlare della bella vittoria del Trapani calcio contro il Città di Sant'Agata. Ai nostri microfoni il capitano Sergio Sabatino che ha sbloccato la gara, ma ascoltiamo anche le impressioni degli altri due marcatori, Alessandro Cangemi e Mattia Gagliardi. Sono molto contento di aver fatto gol. Chi conosce comunque la mia piccola storia a Trapani sa che ho finito qui con una parentesi non molto positiva, ho visto il risultato che c'era stata in quell'annata e quindi è stato per me come una liberazione. Sono contento ovviamente più della vittoria che della mia prestazione. Cosa ti è piaciuto particolarmente della squadra e cosa invece secondo te va migliorato più velocemente in prospettiva dell'inizio del campionato? Sicuramente i primi 35 minuti sono stati da squadra che vuole fare partite. Abbiamo fatto due gol, abbiamo avuto l'occasione per fare anche il terzo gol. Poi dopo gli ultimi dieci minuti del primo tempo forse un pochettino ci siamo abbassati e abbiamo concesso qualche attraverso. Nel secondo tempo ci aspettavamo comunque una reazione da parte loro. È stato importante non prendere gol. Poi abbiamo fatto gol su un contropiede però secondo me dobbiamo ripartire dai primi 35 minuti di stasera. Arriviamo pronti all'inizio del campionato? Sì, siamo pronti. Comunque sappiamo il campionato che dobbiamo fare. Lavoriamo dal 26 luglio con l'obiettivo di arrivare pronti alla prima di campionato. Abbiamo fatto diverse amichevoli ma non sono mai come può essere una partita come quella che sarà stasera. Quindi non vediamo ad iniziare. Sì, sapevamo che affrontavamo un avversario agguerrito. Siamo stati bravi a sbloccarla, a fare il 2-0 nel primo tempo e a gestire il risultato. Poi è arrivato il gol di Cagliardi che ha sigillato il risultato 3-0. Siamo contenti così. C'è da migliorare, lo sappiamo, però siamo sulla strada giusta. Sì, è una stagione dura. Sappiamo tutti l'obiettivo. Dobbiamo cercare di lavorare durante la settimana e farci trovare la domenica pronti. Sono contenti innanzitutto per il risultato e per la prestazione. Era la prima, ci presentavamo ai nostri tifosi in campo finalmente. Dopo la presentazione sono voti in 4.000. Era giusto far vedere a loro cosa siamo capaci di fare. Spero che poi faremo ugualmente anche il campionato. è stata una partita equilibrata. Poi siamo stati arrivati a fare i 2-0 nel primo tempo. Mi sembra che era una buona squadra, è andata bene. Era importante dimostrare ai nostri tifosi, a noi stessi e alla società quello che siamo in grado di fare. Abbiamo fatto pochi amiche, ero dovuto in uno squadre d'eccellenza. Quindi questa è la prima vera partita e abbiamo dimostrato di essere il Trapani. L'Unione Maestranze prepara nuove strategie per rilanciare le iniziative che si tengono per la settimana santa in provincia. Il prossimo 16 settembre una delegazione di Europassione sarà a Trapani per gettare le basi per un rapporto di collaborazione. Questa è la nostra notizia di approfondimento e anche l'ultima notizia di oggi. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e ci guardiamo in servizio. Si punta a fare rete mettendo assieme tutte le realtà che si occupano di settimana santa del Trapanese. Ieri nella sede dell'Unione Maestranze si è tenuta una riunione convocata dal presidente Giovane Lodaleo in vista della presenza a Trapani di una delegazione di Europassione. Si va verso una possibile adesione al circuito nazionale ed europeo delle settimane sante che si svolgono in diverse località. Allora, cogliamo l'occasione per dire che il giorno 16 verrà ad insediarsi il Consiglio nazionale di Europassione. Europassione è una grande associazione che convolge tutte le settimane sante non solo d'Italia ma anche d'Europa. 158 paesi aderiscono a questa associazione. Bene, fare parte di questa associazione significa entrare in un grosso contenitore di comunicazione. Comunicazione che a noi serve perché fondamentalmente la nostra comunicazione è limitata per il nostro territorio. Perciò fare parte di un grande sistema culturale che privilegia e esalta le nostre realtà locali è, come posso dire, una parte non solo di orgoglio ma di tutto quello e dei sacrifici che facciamo durante il periodo organizzativo. Entrare in questo circuito significa mettersi in una vetrina internazionale e entrare in questo circuito significa non solo fare parte dei beni materiali della regione Sicilia ma anche fare parte del sistema UNESCO. Ecco, dal momento in cui entriamo in questo tipo di calderone o di questo tipo di sistema significa che la nostra realtà fa un salto in avanti ma non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista turistico. Ecco, la grande visibilità del nostro territorio, i grandi sacrifici che facciamo per dire che la settimana santa è il periodo pasquale non basta più. Noi dobbiamo adottare tutte le tecniche della comunicazione che coinvolgono tutti, non solo i turisti ma anche i fedeli e non solo i fedeli ma tutti i trapanesi che sono sparsi per il mondo. All'incontro di Iris ed hanno partecipato anche amministratori di diversi comuni del territorio, oltre Trapani anche di Edice e Buseto Palizzolo dove si tengono importanti iniziative in occasione della settimana santa. L'obiettivo è quello di creare, di fare sistema, non essere solamente con la punta dell'iceberg ma invitare dal punto di vista amicale, le persone che fondamentalmente credono su questa base culturale che è la settimana santa, come quelle di Buseto Palizzolo che fanno grandi sacrifici per riuscire i carri viventi di questa settimana santa e perciò ho voluto fare salire tutti sul luccaro non solo del vincitore ma sul luccaro della comunicazione e della realtà territoriale tutte le persone più vicine a me come Edice che io mi sento parte integrante non solo da Edicino ma uno che ha la cultura Edicina. Fare in modo che la visibilità sia di grande valore, di grande spessore culturale. Si punta insomma a fare sistema con l'obiettivo da un lato del riconoscimento UNESCO, dall'altro di uniformare il linguaggio entrando in una importante piattaforma di comunicazione ma al contempo preservando le peculiarità di ogni singola processione e manifestazione religiosa. Il treno importante è come dire non possiamo più uscire fazzoletti e salutare, dobbiamo salire su questo grande treno che ci porterà molto lontano e porterà molto lontano lo sviluppo di un territorio perché non possiamo solamente sacrificarci per fare comunicazione, la comunicazione si deve fare su grandi circuiti. Europassioni ci permetterà sicuramente di fare un salto in questo circuito internazionale. Le nostre peculiarità che fondamentalmente sono l'essenza della nostra cultura non verranno e non vogliamo che vengano distolte dalle nostre comunicazioni. Nello stesso tempo voglio dire e per questa nuova iniziativa l'Unione Maestranze sarà la sede, una delle sedi delle vie dei tesori. Dal giorno 16 si svolgerà anche presso la nostra sede non solo nella chiesa del Purgatorio ma ci saranno per la prima volta delle immagini e ci sarà una comunicazione extrasensoriale della visione della processione dei misteri. Perciò venite tutti ad ascoltare, a sentire e a gustare di questa immagine che noi vi proponiamo all'interno dell'Unione Maestranze. Perciò visibilità e comunicazione extrasensoriale.